Come il Movimento 5 Stelle, i nostri colleghi deputati non vogliono le nostre prezesse Oletà! 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 Aiutati a crescere, ad avere competenze e ad avere la loro identità sviluppata al massimo della loro potenzialità tutti i nostri figli, tutti! Allora noi vogliamo difendere questa scuola guardate che ruolo del dirigente già c'è e allora la scuola pubblica basata su questo perché quando nel 94 non sono massimo ma non è una scuola di rinforzamento e non è una scuola di rinforzamento ma non è una scuola di rinforzamento ma non è una scuola di rinforzamento lo prendiamo appena di rinforzamento a tutte le associazioni un po' di rinforzamento un po' di rinforzamento e una scuola di sette dirigenti Amo! Bravo!